ciao amiche ed amici benvenuti sul mio canale youtube ebbene sì siamo ancora febbraio all'inizio di febbraio però che volete mi è venuta voglia di fare una colomba sì una colomba pasquale siamo ancora dentro il carnevale in pieno carnevale poi la pasqua tra l'altro arriverà mi sembra ai primi di aprile quest'anno no metà aprile se non lo ricordo bene però sentivo nostalgia di un grande lievitato sarà che a natale mi sono data da fare con i panettoni mi mancava un po questa questa cosa di impastare un grande lievitato quindi vado a fare in questa ricetta una ricetta di ezio marinato la colomba pasquale la colomba pasquale con candidi di arancia bene seguitemi e la facciamo insieme di amici benvenuti nel mare alloare Per fare un grande lievitato, come già sapete, la pasta madre va rinfrescata spesso negli ultimi giorni, quindi vanno fatti dei rinfreschi ravvicinati e l'ultimo giorno ne vanno fatti tre, fino alla sera. Quindi arrivata la sera alle 8, io metto nella ciotola della planetaria tutta l'acqua con lo zucchero e lo sciolgo così, se volete anche direttamente con la foglia. Ci butto poi tutta la farina e faccio girare a velocità bassa all'inizio, ci aggiungo poi la pasta madre a pezzettini, mentre sto girando, di 60 grammi di pasta madre. E poi ci metto subito un terzo dei tuorli. Faccio girare. Aggiungo poi il resto dei tuorli, piano piano, un po' per volta, così con un cucchiaio. Aspetto che l'impasto li assorbe bene, prima di mettere l'altra parte. Così, in questo modo, quindi un po' per volta. Continuo a girare per portare l'impasto ad incordatura, prima di aggiungere il burro. Io qui naturalmente ho fatto dei tagli, perché altrimenti il video sarebbe venuto lunghissimo, quindi ho accorciato i tempi. Quando vedo che l'impasto sta incordando, comincio ad aggiungere il burro. Anche il burro va messo a pezzettini. Il burro è morbido, l'ho tirato fuori dal frigo diverse ore prima, in modo che si è ammorbidito. Oppure fatelo ammorbidire, ma non deve essere caldo, altrimenti l'impasto si scalda troppo. Quindi continuo così a mettere il burro e continuo a girare fino a incordatura. Quando è pronto, lo giro sul piano di lavoro. Eccolo qua. Come sapete l'impasto non deve superare i 26 gradi, quindi non deve scaldarsi troppo. È bene misurare con un termometro e controllare. Controllare che non superi i 26 gradi, ma non bisognerebbe proprio arrivarci a 26 gradi. Io di solito ho 24 gradi, se succede ci fermiamo e mettiamo un attimo in frigo. Quindi, ora procedo così, faccio qualche piega così. La ricetta dice di pillare soltanto. Io ho fatto così. Con il tarocco. Ok. Comunque l'impasto, vedete, è bello. Deve rimanere così, bello elastico, liscio, setoso. Ed ora va messo dentro un recipiente, dove rimarrà diverse ore. Io lo lascerò tutta la notte, poi domani mattina valuto la crescita. Adesso sul recipiente ci metterò un segnetto. Io non metto la spia di lievitazione. Mi regolo direttamente dalla crescita che avrà l'impasto. Ecco qua, ora lo metto dentro il recipiente. Calcolando, questo è un pochino largo, magari se voi ne avete uno stretto a bordi dritti è meglio. Però qui, calcolando i vuoti che ci sono, ci farò il segnetto e domani mattina vedrò la crescita. Bene, eccoci arrivati alla mattina. Come vedete ho preparato già gli ingredienti per il secondo impasto. Ora sgonfio il mio impasto. Eccolo qua. Ha triplicato il suo volume, quindi ha lievitato molto bene. Anche se ci sono volute un pochino più di 12 ore. Ora lo metto nella ciotola e lo appoggio in frigo. Lo appoggio in frigo una mezz'oretta. Così poi lavoreremo con un impasto con una temperatura più bassa, altrimenti poi si scalda troppo. Qui ho preparato il mix con il miele, la bacca di vaniglia, i canditi. Io metterò anche un po' di cedro. Volevo consigliarvi questi recipienti dove erano i canditi. Non li buttate perché si possono riciclare. Io per esempio ci faccio il tiramisù per i miei nipotini. Perché è una plastica dura, è un peccato buttarli nella plastica. Bene, una volta pronto l'impasto raffreddato in frigo, aggiungo subito la farina, faccio girare e riporto subito ad incordatura. Scusate, mi sta uscendo la farina, ho dimenticato di mettere il paraschizzi. Ecco qua. Qui aggiungo subito il malto e faccio girare. Anche qui naturalmente ho fatto dei tagli. Quindi accorcio un pochino i tempi. Vedete, ogni tanto taglio. Bene, mantengo sempre l'incordatura. Mi fermo anche e mi controllo il velo. Sembra che c'è. Anche perché do modo di raffreddare un pochino, di non far scaldare troppo l'impasto. A questo punto metto lo zucchero. Lo metto in tre volte. Quindi anche questo piano piano. Continuo. Mantengo sempre incordato l'impasto. La ricetta del maestro Ezio Marinato su internet se ne trovano diverse. Io però ho preferito seguire quella del gruppo di Fabble, del blog di Fabble, Fabble di Zucchero. Dove spiegano molto bene il procedimento. Finisco di mettere lo zucchero e poi aggiungo anche il sale. Naturalmente tutte le dosi le trovate all'inizio, in descrizione, all'inizio del video. Ora è la volta dei tuorli. I tuorli che ho sciolto con un cucchiaio. Anche qui vediamo un attimino se il velo c'è. Scusate se non riesco bene con l'inquadratura da solo a farvi vedere. Ok, quindi inizio a mettere i tuorli in più riprese. Ne metto un cucchiaio, poi aspetto che l'impasto assorba bene l'uovo, il tuorlo, scusate, prima di metterne altro. Scusate il disturbo, c'era il cellulare vicino al microfono. Continuo, continuo sempre tenendo l'incordatura. Naturalmente anche qui dovreste misurare la temperatura, controllare che l'impasto non si scaldi perché altrimenti se perde la corda poi si adagia e non va bene. Quindi se succede basta appoggiare un attimo in frigo e poi riprendere. Bene, una volta pronto, mettiamo... pronto, vabbè, una volta che ho assorbito bene tutte le uova, ci mettiamo il mix, il mix aromatico col miele, l'arancia grattugiata, arancia bio e la bacca di vaniglia. Faccio girare un pochino. Bene, sembra abbastanza incordato. A questo punto possiamo cominciare a mettere il burro. Il burro mi raccomando sempre a pezzettini, poco per volta. Aspettiamo che lo assorba bene prima di mettere un altro pezzo. Accorcio i tempi perché qui la cosa è un po' lunghetta, quindi farò qualche taglio. Il burro è sempre a temperatura ambiente diverse ore prima, così è morbido. Ok, misuro, misuro la temperatura. Se non supera i 24 gradi, io preferisco stare un po' sotto dei 26, cioè chi dice 24 che 26, se non li supera continuo, altrimenti appoggio, mi fermo un attimo e appoggio in frigo. Bene, io direi che è pronto. Ora è il momento di mettere le sospensioni. Io metterò 140 grammi di arance candite, poi se avete quelle vostre bio sarebbe ancora meglio, io le ho comprate. Ci metterò 60 grammi di cedro, forse ne ho messe anche un pochino di più, perché il vasetto è da 70. Ho messo due di arance e una di cedro, quindi saranno 210 grammi di sospensioni. Se volete potete cambiare a vostro gusto. Faccio girare a bassa velocità e poi mi fermo e lascio l'impasto dentro la ciotola coperta per mezz'ora, per 30 minuti. Bene, lo lascio un pochino all'aria, la ricetta dice 30 minuti, ma io non ho rispettato molto i tempi, dico la verità. Vedete il veloce, l'impasto è molto bello. Lo peso, lo peso e ho visto che è un chilo preciso. Lo divido, faccio 300 grammi e 700, quindi farò una colomba con un pirottino da 300 e uno da 750. Lo lascio, li lascio un pochino una volta pezzati all'aria, anche qui bisogna lasciarli un pochino prima di pirlare i pezzi. Quindi, li pirlo e li lascio ancora puntare 15 minuti, così almeno dice la ricetta. Ok, pirlo anche i 300 grammi. Bene, ho preparato i pirottini, quindi ora farò, ma senza pesare, divido per fare le ali della colomba e la coda. I pezzi li devo allungare un pochino e li lasciamo comunque qualche minuto, dice la ricetta. Io invece sto facendo di testa mia. Metto a due le ali, vedete, un po' girate. Scusate l'inquadratura, mi si è spostato un pochino il cellulare con cui riprendo. Poi sopra metto il corpo. Come vedete il pirottino è da 750 e invece l'impasto è 700. Ma gli spazi si riempiranno poi con la lievitazione. Poi siccome ci va la glassa sopra, la granella quindi compensa il peso che manca. Ecco qua, ora metterò la pellicola, metterò uno stecchino al centro per non abbassare la pellicola, se no si appiccica. E metto a lievitare nel forno con la lucina accesa, forno spento naturalmente. Mi preparo gli ingredienti per la grazza. Tanti di voi mi hanno chiesto come fare, è semplicissima. Poi ho guardato la ricetta del maestro. Metto nel frullatore le mandorle. Io non ho trovato quella amare, ho messo le mandorle normali. Ho tritato insieme allo zucchero, ho frullato, con l'albume. Regolatevi per la densità perché non deve essere tanto liquida se non scivola via. E la glassa è pronta, la tengo a temperatura ambiente. Una volta pronte a me ci sono volute altre 5-6 ore circa. Come vedete manca pochissimo al bordo. Il forno a temperatura 160 gradi. Ho messo la glassa, ho guarnito con granella di zucchero, ho messo le mandorle per guarnizione. E in forno. In forno ci vorranno all'incirca 50 minuti, 55, ecco vedete sta crescendo. Non le ho cotte insieme, le ho cotte prima una e poi l'altra perché non essendo dello stesso peso, magari quella piccolina ci voleva, bastava una mezz'oretta. Quindi le ho cotte divise. Scusatemi. Le ho messe un pochino a testa in giù, ma giusto un'oretta, come i panettoni. Ed eccola qua. Io direi che è molto bella. Sì, non è cresciuta, però essendo soltanto 700 grammi, dovrebbero essere almeno 750. Però è venuta molto bene, no? Che ne dite? Questa ricetta è perfetta, veramente perfetta. Ma anche l'anno scorso ho fatto quella del maestro Morandina, che quella era molto buona, mi era venuta bene. Ecco qua al taglio, è profumatissima. Ora l'assaggio subito. Bene amici, vi ringrazio della visione. Vi invito a condividere i miei video, a lasciare un like sotto il video. E ci vediamo prossimamente per un altro video. Ciao a tutti e buoni impasti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!